E' un vero e proprio grido di dolore quello che si alza dal comparto edile della provincia di Salerno. I numeri, tutti clamorosamente preceduti dal segno o meno, certificano una situazione prefallimentare che non può essere più ignorata o, peggio ancora, derubricata alla voce congiuntura negativa. I costruttori salernitani, rappresentati dal Lancia e Aies guidata da Enzo Russo, non sono più disposti ad attendere. I recenti dati della cassa edile certificano ufficialmente la grave crisi del comparto edile, ma cosa più grave, l'attuale stallo del mercato delle opere pubbliche, meno 42,5% rispetto allo scorso anno, con una tendenza al peggioramento nei prossimi mesi, rendono a dir poco drammatica la situazione, prefigurando una perdita di 800 milioni di euro, valore che si triplica considerando anche l'indotto. E' così, quello che da tutti veniva acconsigliato come l'anno della ripresa sta rivelandosi peggiore di quello appena messo alle spalle. La crisi irreversibile per il 2017 determinerà allora una perdita di ulteriore 2.255 posti di lavoro con la cessazione di circa 300 imprese. Va sottolineato come i bandi di gara siano ormai scomparsi ed il settore che costituisce la principale leva dell'economia provinciale, 21% del PIL, avverte forti segnali di stanchezza. Secondo Vincenzo Russo occorre allora attivare da subito un tavolo di confronto sullo stato attuativo della programmazione unitaria della Regione Campania 2014-2020, ove a fronte di importanti risorse economiche disponibili oltre 5 miliardi di euro per la sola provincia di Salerno, si registra per l'anno in corso una spesa di appena 280 milioni di euro. La situazione è paradossale cui bisogna porre rimedio. C'è a disposizione infatti un tesoretto e si fa fatica a spenderlo e per questo la Regione Campania, con il suo apparato dirigente ed amministrativo, non può più far passare in vano altro tempo prezioso.